Musica Si è tenuto ieri il secondo concerto della 49esima stagione concertistica della gioventù musicale italiana che inchioggia una delle sue sedi, alla quale da 49 anni presenzia il maestro Loris Etiozzo. Al concerto Laboratorio Unplugged ha partecipato un quartetto di clarinetti, Giuseppe Federico Pace al clarinetto piccolo, Maurizio Croci al clarinetto soprano, Edoardo Mancini al corno di bassetto e Lorenzo Poli al clarinetto basso. La serie di concerti presentati dalla gioventù musicale italiana hanno l'intento di mostrare al pubblico una serie di musicisti giovani nel panorama musicale ma di qualità. Dietro ogni esibizione ci sono anni di lavoro e di studi e non c'è premio più grande dell'applauso del pubblico. SD Auto informa della novità per il 2023 la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.